Sono Stefano Bozzi, insegno finanza aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma. Nell'ambito dell'ampia offerta formativa della Facoltà di Economia presso il Campus di Roma, particolare rilievo è dato al mondo delle professioni della consulenza aziendale. Abbiamo un profilo dedicato alla professione della consulenza aziendale sia nell'ambito delle lauree triennali che delle nostre lauree magistrali. Nella laurea triennale in Economia e Gestione dei Servizi abbiamo un profilo denominato Servizi Professionali in cui vengono fornite le competenze di base di tipo contabile, giuridico, finanziario e quantitativo. Queste competenze consentono ai nostri studenti che volessero proseguire la loro formazione nelle nostre lauree magistrali di poter accedere senza la necessità di particolari aggiustamenti nel piano di studio. Nell'ambito delle lauree magistrali offerte dalla Facoltà di Economia presso il Campus di Roma, che ricordo sono due, Management dei Servizi e Direzione Consulenza Aziendale, quest'ultimo erogato in forma blended, anche qui sono presenti dei profili dedicati al mondo della consulenza e dei servizi professionali. In questi profili quelle competenze acquisite nella laurea triennale vengono riprese e riportate evidentemente su un livello superiore attraverso insegnamenti che vengono continuamente aggiornati sulla base dell'evoluzione del mercato della consulenza e dunque delle esigenze delle imprese. L'attenzione al mondo della consulenza ci porta poi ad avere continue relazioni con le primarie società di consulenza. Abbiamo un rapporto continuativo e questo si materializza in corsi che teniamo regolarmente in cui intervengono manager e partner di queste società di consulenza che hanno per oggetto specifiche tematiche legate proprio al mondo delle professioni. Questo rapporto continuativo con le società di consulenza poi consente anche ai nostri studenti uno sbocco naturale sia per quanto riguarda la possibilità di realizzazione di stage come pure come sbocco lavorativo al termine del loro percorso di formazione. L'attenzione al mondo della consulenza ci ha portato a sottoscrivere nei primi mesi del 2021 una convenzione con l'ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Roma. Siamo particolarmente soddisfatti di questa convenzione perché riteniamo che la figura del consulente del lavoro abbia assunto negli anni un ruolo centrale e costituisca un fattore di sviluppo per le imprese legato appunto all'ottimizzazione dei rapporti tra l'impresa e i propri lavoratori. La convenzione consentirà ai nostri studenti di svolgere sei mesi di titiocinio durante l'ultimo anno o della laurea triennale o della laurea magistrale accorciando così il tempo necessario dopo la laurea per poter accedere poi all'esame di abilitazione alla professione. Inoltre questa convenzione ci porterà a svolgere nei prossimi mesi seminari di approfondimento su temi specifici che riteniamo possano essere un'interessante opportunità di formazione sia per i nostri studenti ma più in generale per tutti coloro interessati ai temi della consulenza del lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.